Confimprese Taranto, Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese, Viale Magna Grecia 189 Taranto, Corso Mulettista Globale, Durata Corso 16 ore, 8 ore teoriche, 8 ore pratiche, svolgimento, il corso è erogato in modalità blended, parte teorica online e parte pratica in presenza, rilascio attestato? Sì, il rilascio dell'attestato è consentito una volta superata la prova teorica e la prova pratica. L'attestato ha validità quinquennale e abilita il corsista all'utilizzo dell'attrezzatura di cui ha il presente corso. Confimprese Taranto, Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese, Viale Magna Grecia 189 Taranto.